Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Voglio mostrarvi le migliori opportunità per guadagnare soldi gratuiti su BitGet. Facciamo una guida, visto che in questi giorni sono tantissime le promozioni che stanno facendo, può essere davvero utile fare un video dove raccolgo tutte queste opportunità. BitGet è la piattaforma cripto che utilizzo per fare trading e copy trading. In descrizione ti lascio il link. Iniziamo con chi non è iscritto a BitGet. Iscrivetevi con il mio link, avete il 10% di sconto sulle FI. E poi avete un pacchetto di bonus di fino a 6200 USDT. I primi 200 soltanto iscrivendovi, gli altri praticamente in base ai volumi di trading e ai depositi che fate. Vi lascio nelle schede e anche in descrizione il video tutorial con il bonus di benvenuto per i nuovi iscritti. Guardatelo e prendetevi questi primi soldi gratis. Quindi la prima cosa da fare è iscriversi. Link con il mio link. Link in descrizione, tutorial in descrizione. Il mio link e poi tornate sul link che è spiegato tutto in descrizione. Vi iscrivete con il mio link, 10% di sconto sulle FI e poi tornate sul link dove potete riscattare fino a 6200 USDT di bonus. Ok? Di benvenuto. 200 subito e gli altri 6.000 in base al trading che fate, i volumi e i depositi. Tutto in descrizione e anche il video tutorial ve lo metto qui nelle schede. Guardatevi anche, vi metto anche la strategia di trading che io utilizzo. Guardatevela per fare trading e copy trading e poi ci sono tutta una serie di video tutorial su BitGet. Molto semplice, acquistare le cripto, fare trading. Si può acquistare semplicemente cliccando su acquista cripto con carta di credito o deposito bancario oppure mandandosele da un altro exchange. Semplicissimo. Comunque in descrizione ci sono anche video tutorial. Quindi, prima cosa da fare se non sei iscritto, iscriviti con il mio link, ok? Per gli sconti sulle FI e il bonus. Poi, 50 BGB. BGB è il token di BitGet. Possiamo avere fino a 50 BGB gratis. Clicchiamo su 50 BGB che trovate qui in alto a destra. E' molto semplice. Vincita assicurata fino a 50 dollari in BGB. Scusate, non sono 50 BGB ma 50 dollari in BGB. Comunque, prendetevi questi 50 dollari. E' molto semplice, non dovete neanche fare trading. Bisogna cliccare su partecipa, qui. E poi, da un dollaro a 5 dollari, se scaricate l'app, quindi apri un'attività molto semplice, scaricate l'app e guadagnate da 1 a 5 dollari. Se fate il che vuoi sì, che poi è obbligatorio, ne avete altri da 1 a 5 dollari. E vedete, già ci sono tanti vincitori, perché qua basta completare, quindi scaricare l'app e fare il KYC. Quindi clicca sul pulsante completa dopo aver scaricato l'app di BitGet. E poi verifica KYC dopo la per... Quindi, dopo che avete fatto il KYC, cliccate su verifica. Quindi molto semplice, cliccate qui, poi cliccate su partecipa. Ora è scomparso perché ho cliccato. Dopodiché scaricate l'app e poi tornate qui e cliccate su completa. Poi fate il KYC e poi tornate qui e cliccate su verifica. Poi depositate, dopo la partecipazione, effettua un deposito di oltre 100 USDT e mantieni tale importo per almeno un giorno. Altri da 5 a 10 dollari in BGB gratis, semplicemente depositando 100 USDT e tenendoli per un giorno. Quindi cliccate su deposita, fate il deposito e ne avete altri. Alla fine sono task semplici. Dopo la partecipazione effettua un deposito di oltre 250. Quindi mettetene direttamente 300 e vi prendete questi altri da 5 a 10, da 2 a 10. Poi se fate volume... Ragazzi, le task sono semplicissime. Dopo la partecipazione raggiunge un volume di trading sui futures superiore a 300 USDT. Facilissimo fare un volume, aprite un'operazione. Quindi questi 50 dollari sono semplicissimi. Vi iscrivete, scaricate l'app, fate il KYC, depositate 250 USDT e aprite un'operazione con 300 dollari di volume, pochissimo. Sui futures aprite e chiudete e avete 50 dollari. Sono gratis! Gratis! 50 dollari, semplicemente facendo, scaricando l'app, il KYC. Molto, 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 molto interessante. Tutti i link sono in descrizione. E trovate anche la mia strategia di trading, vi metto anche qualche video qui che funziona molto bene. Fatemi sapere come sta andando il vostro trading. Se non avete mai usato BitGate, iscrivetevi adesso. Link in descrizione, fate tutte le attività. Soldi gratis!